Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, i romani realmente con i rifiuti che ci sono hanno perso ormai quasi ogni speranza. C'è chi dà la colpa ad Ama, la società dei rifiuti. Ama avrà le sue colpe, vi ricordate 2000 dipendenti su 6000 che rubavano la benzina, il carburante, o quelli che si mettono in malattia costantemente, o i mezzi che mancano. Ama ha delle sue colpe, ma non possiamo dire che il degrado romano della città è data da Ama. È un attore del film del degrado, ma nel degrado c'è la mancanza di luoghi dove gettare i rifiuti. E poi, a parte i rifiuti, come vedete nella foto di copertina, che sono tutti intorno ai cassonetti, c'è un'altra parte del degrado, che sono i rifiuti buttati dappertutto. E lì non c'entra né Ama né l'inceneritore che manca, lì sono le persone che buttano le robe per terra ovunque sia. Un mese e mezzo fa, quando ero ad Ostia, passeggiavo in via delle Azzorre, lì vicino ai supermercati, e dove ci sono i parcheggi con le macchine, tu guardi appena scendi dalla macchina per terra, ed è spazzatura continua, cioè la spazzatura che continua, trovi di tutto. Quindi vuol dire che la gente scende dalla macchina o prima di salire in macchina e butta per terra. Cioè butta proprio per terra. E lì non ci sono bidoni della spazzatura pieni, lì proprio è la spazzatura buttata per terra da chi vive lì. Per questo che vi dico che nel degrado di Roma ci sono diversi attori, c'è Ama, c'è gli inceneritori che mancano, ci sono gli stessi abitanti che buttano per terra. Mentre passeggiavo ho visto divani, due lavatrici e una cucina, c'erano tre elettrodomestici vicini, e anche uno di quegli attrezzi per fare i pesi nelle palestre, enorme, c'è stato due metri e mezzo per uno e mezzo, tutto di ferro arrugginito, preso e messo lì, di fronte al cassonetto della spazzatura. I rifiuti ingombranti non devono essere messi, cioè il divano non è che di notte devi scendere dal condominio col divano e buttarlo in mezzo alla strada. Quindi, quello che vi voglio far capire è che il degrado a Roma non è da imputare solo a un attore, sono diversi gli attori che compongono il degrado romano. E ve lo dico perché proprio l'ho visto io coi miei occhi, l'ho visto io coi miei occhi. La spazzatura buttata sulle dune protette sul litorale romano, cosa c'entra con Ama? Diceva, il comune non pulisce, taglia l'erba e la spazzatura che viene fuori non viene tirata su. Ok, sono d'accordo, ma chi ha buttato la spazzatura nei parchi per terra, in mezzo alle dune e tra i cespugli? Ecco, il vivere civile comporterebbe che una persona, una città, non prende e butta, hai qualcosa in mano e lo fai cadere. Dovunque ti trovi, butti per terra qualunque cosa. Io, mentre parcheggiavo sul lungomare di Ostia la macchina, apro lo sportello e c'era un estintore. Un estintore! Ecco, qualcuno tra, sapete che sulla costa c'è le due strade con i due sensi diversi, in mezzo c'è uno spartitraffico dove poi si parcheggiano le macchine, lì, proprio a 20 metri dal centro di Ostia, apro lo sportello e c'è un estintore rosso buttato lì. C'è andato da solo l'estintore? È colpa del comune? È colpa che manca l'inceneritore? O c'è qualcuno che si è portato l'estintore da buttare, ha aperto lo sportello, ha buttato, ha richiuso lo sportello e se n'è andato? Ecco, ecco. Ci sono, c'è spazzatura di tutti i tipi fra le dune in spiaggia, ed è colpa di ama di quelli che buttano. Allora, mettiamo un netturbino a fianco di ogni persona? No, 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 fermo, 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 non buttare. Allora, le cose si buttano nel bidone, il bidone pieno fa niente, tu le vai a buttare nel bidone, non le butti per terra. Che facciamo? Mettiamo una persona di ama a fianco di ogni abitante? Ecco. Allora, cari romani, quando ci si lamenta del degrado, bisogna anche guardarsi tra la popolazione. Colpa di ama, colpa di gualtieri, colpa del mini sindaco, sapete che i vari comuni che compongono Roma c'è il mini sindaco. Ecco, quindi, se trovate l'estintore in centro, buttato per terra, è colpa di gualtieri, è colpa di ama, è colpa della congiunzione astrale? Eh dai, su, eh, io aprendo la portiera non avrei dovuto trovare l'estintore. Poi vedo i siti che parlano di Roma e dicono guarda, il comune ha tagliato l'erba, finalmente! Ma non hanno tirato su i rifiuti che hanno trovato sotto. Ma quei rifiuti non dovevano esserci. Come fai ad andare a ripulire centinaia di chilometri quadrati pieni di cose che la gente butta per terra? Ma come fai a seguire ogni persona tutto quello che butta per terra? Aprono le portiere delle macchine e buttano per terra. Eh? Insomma, civiltà. Non possiamo dare la colpa sempre agli altri. Il comune, il comune, il comune, il comune, il comune. Il comune deve fare l'inceneritore. Faranno l'inceneritore a Roma. Metteranno in sesto Ama o Kiperes e svuoteranno i bidoni. Va bene. Però poi se la gente continua a buttare di tutto per terra eh, non ne usciamo. Ci saranno i bidoni vuoti. Come è successo a me. A Ostia, ad aprile, c'erano i bidoni della spazzatura vuoti. Non c'erano sacchetti. A parte le tre lavatrici, il divano, cosa per fare gli attrezzi, va bene. Però c'erano i bidoni vuoti. Li stavano svuotando. Non c'era spazzatura in giro per Ostia. Dove ci sono i bidoni. Però quando tu passeggiavi, o andavo lì al supermercato in via delle Azzorre, per terra era tutta una sporcizia continua. Poi se tu abiti lì, non ci fai più caso. Diventa normale. Non ci fai più caso. Per chi non abita lì e cammina lì, dice ok, ci sono i bidoni vuoti. Però poi trovi l'estintore quando apri la portiera della macchina. O nel parcheggio trovi immondizia di tutti i tipi buttata per terra da quelli che parcheggiano lì. E qualcuno dice no, ma è il vento. Sì, vabbè, è il vento. Vabbè, c'è sempre qualcuno che poi trova la giustificazione. È il vento. È il vento. Mica sono i cittadini. È il vento che porta in giro la spazzatura. Ma cosa dici? È colpa sempre del sindaco e del governo. E del mini sindaco e dell'AMA. Ama non c'è. È andata via. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.